Bisogna accelerare i tempi rispetto a quanto ha previsto Arcuri, quindi bisogna metterci tutti di punto buono e comprare l'alena tutti noi medici, infermieri eccetera per collaborare alla riuscita di questo progetto. Ci vorrà almeno un anno per vaccinare tutta la popolazione e poi bisognerebbe rendere riconoscibili i sanitari vaccinati, oltre ad anteporre medici di famiglia e dentisti nella scaletta delle categorie da vaccinare. E' l'opinione dello storico presidente dell'Ordine dei Medici di Firenze, Antonio Panti. E' un'idea molto soft che però riprende, se ci pensiamo bene, l'idea per la quale è stato assegnato il premio Nobel dell'anno scorso a Thaler, quella della cosiddetta spinta gentile, cioè come si fa a convincere le persone con la gentilezza, con l'intelligenza della proposta rispetto a imporlo con una legge per esempio che obblighi. E allora un'idea mi era venuta, se l'Ordine dei Medici, per esempio, desse delle spille con magari il logo dell'Ordine, scritto io mi sono vaccinato, e magari l'Ordine degli infermieri agli infermieri, oppure insieme regione e ordine, questo insomma farebbe sì che il cittadino riconosce chi ha di fronte e darebbe una spinta per forza di cose, per competizione alla vaccinazione di tutti, senza diciamo obbligare nessuno. Secondo il dottor Panti, infine, medici di famiglia e specialisti dovrebbero essere vaccinati prima del personale amministrativo. Anteporre personale anche amministrativo, gli studenti in medicina, a chi come i medici di famiglia vanno tutti i giorni nelle case delle persone o visitano un ambulatorio, mi sembra che francamente sia stato un po' un errore.